Oggi siamo partiti dal spettacolare Crecchio, è una tappa molto impegnativa caratterizzata dal forte evento che ha messo in grossa difficoltà i partecipanti e uno sprint finale con zio e nipote Moser e alla fine l'ha vinta chi aveva più gamba ovvero Francesco Moser, siamo divertiti anche oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.